allora questo è un altro programma con i puntatori è un programma molto semplice ma vi fa un po' capire come funziona il puntatore allora vengono dichiarate intanto prima viene dichiarata una variabile di tipo puntatore e viene posizionata, inizializzata null che significa che inizialmente il puntatore non punta nulla poi vengono dichiarate tre variabili che sono x, y e z che vengono inizializzate a 1, 7 e 2 rispettivamente inizia il programma vero e proprio P uguale commerciale x quindi significa che la P ha come valore l'indirizzo della variabile x quindi se io considero la caserina questa è la mia variabile x la mia variabile x cui è riservata una cella in memoria e x è pari a 1 quindi P puntatore punta ad x quindi qui quando scriviamo asterisco P quindi dereferenziamo il puntatore abbiamo come valore 1 come valore 1 poi c'è y uguale asterisco P quindi y assumerà il valore della variabile cui punta P e quindi sarà uguale ad x e quindi uguale a 1 poi asterisco P è uguale a 0 che significa che qui abbiamo 0 ma non basta scriverlo qui 0 anche x è uguale a 0 perché quando parliamo di P parliamo della cella di memoria cui punta P quindi la cella riservata alla variabile x e quindi in questa cella non avremo più il valore 1 ma avremo il valore 0 e quindi anche la x sarà 0 alla fine si calcolerà il valore di z che è z più quindi 2 più 2 per 0 più 3 per 1 quindi il risultato di questo quiz sarà z uguale 5 che cosa stamperà? stamperà semplicemente stampa z uguale 5 questo è un quiz molto semplice però la cosa che mi preme farvi vedere comunque come funziona il puntatore mi interessa farvi capire come funziona il puntatore comunque questo è molto semplice ma vi fa vedere come bisogna trattare con i puntatori e la cosa importante è capire che il puntatore da solo non ha senso ma ha senso se ha come valore l'indirizzo di una qualsiasi variabile in questo caso una variabile intera ok non ha senso non ha senso